Ciao ragazzi, finalmente trovo la possibilità di farvi vedere come si stende la pinza. Questa è la forma rotonda, quindi le basi per fare la pinza romana, però forma tonda. Allora, cominciamo dalla pasta che deve essere, come ho sempre detto, citebolissima. Questa è un 80% di idro, sono 260 grammi di pasta. Il cuscino di spolvero. Stendete la pallina e come vedrete non si gira come la classica pizza tonda. Bensì si allarga leggermente con le dita. E poi gli si dà la forma sulla pala. Queste io le faccio un po' più piccole perché servono per le gourmet. Quindi c'ha un diametro di circa 28 centimetri, 25-28 centimetri. Filo d'olio di semi. E poi... Forno a 330-320 gradi. Questo è un gas. Per circa due minuti, due minuti e mezzo. Ok, adesso facciamo quello della pinza romana vera. Grazie. Grazie.